Le notizie che ruotano attorno al Biceglie ormai da diversi giorni sono poche e al tempo stesso discordanti tra di loro. Non c'è traccia di comunicazioni ufficiali da parte della società presieduta da Nicola Canonico. C'è spazio solo per un assordante silenzio che aumenta le preoccupazioni della tifoseria e crea nubi di incertezze circa il futuro calcistico del club stellato che era e resta difficile da decifrare. Voci sempre più insistenti in ogni caso raccontano di un Canonico pronto ad annunciare il proprio disimpegno come patron del Biceglie. Avrebbe confidato proprio queste intenzioni ai dirigenti bicegliesi nel corso di un incontro avvenuto nella giornata di ieri. Sempre ieri e in questo caso parliamo di certezze. Andrea Petta, uomo simbolo del ritorno tra i professionisti e capitano di tante battaglie, ha annunciato sul proprio profilo Facebook la fine della sua esperienza con la maglia stellata. Presto la stessa sorte potrebbe toccare al tecnico Ciro Ginestra che a quanto pare ha già discusso con Canonico per raggiungere l'accordo che porterà alla rescissione del contratto. È stata davvero incredibile quella del tecnico campano ex di Maltamura in procento prima di firmare ad Andrea, ipotesi naufragata con la mancata iscrizione della Fidelis alla Serie C, e poi costretto a vivere una situazione paradossale a pochi chilometri di distanza, di fatto il suo lavoro al timone dei bicegliesi. È terminato una settimana fa con la conclusione anticipata del ritiro di Alfedena. La squadra di ritorno dall'Abruzzo non si è più allenata alla luce della situazione di incertezza che si è venuta a creare nelle ultime settimane. Il futuro del calcio professionistico nerazzurro è sempre più a rischio e al momento nelle mani di Nicola Canonico. Lui però a Biceglie non è più gradito e i bicegliesi, per quanto è emerso negli ultimi giorni, hanno dimostrato di non essere in grado di sostenere autonomamente una squadra tra i professionisti. Questa è la mare a realtà. Questa è la mare a realtà.